Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Game Play Ita e con immenso piacere che vi porto Lumberjack's Dynasty il gioco che esce dopo, anni dopo, Farmer's Dynasty ed è un gioco che è appena uscito, perché lo sto registrando proprio al day one ed è un gioco che costa 20€ 17,99€ è scontato attualmente 19,99€ il prezzo pieno ed è un gioco attualmente in early access significa che l'italiano dovrebbe arrivare più avanti siamo alla versione 0.42 del 30 di aprile 2020 non ha ancora diverse features perché se vi ricordate Farmer's Dynasty permetteva di sposarsi e avere figli e portare avanti la dinastia qua non possiamo ancora sposarci e avere figli come è stato anche per il primo capitolo Farmer's Dynasty quindi, insomma, il gioco è più o meno quello lo andiamo a giocare dall'inizio se conoscete già Farmer's sarà molto simile solo che la tematica principale non sarà quella della coltivazione ma della tagliare gli alberi in pratica è fare il boscaiolo siamo a Pine Grove Valley all'inizio di luglio stiamo andando in Pullman verso la casa dei nostri zii andiamo a vedere è tutto guidato da una storia i cambiamenti maggiori nella vita spesso avvengono per caso una settimana fa la mia zia preferita Grace mi ha chiamato come per dare una mano insomma perché i miei zii stanno diventando anziani e stanno aspettando di andare felicemente in pensione e hanno deciso di mettere in piedi di risistemare tutta la loro tenuta per poterla probabilmente vendere sono felice di aiutarli inizio a realizzare quanto mi è mancata la pace e la quiete della montagna l'aria è pulita visioni di vista e mozzafiato e insomma buon profumo della montagna ho spento il mio telefono e ritorno nella natura almeno per un po' e quindi arriviamo dalla nostra zia i nostri zii più che altro la zia eccola qui ciao si fammi scendere e poi arrivo ecco qua da quello che ho capito si sarà molto guidato da una storia da missioni probabilmente dovremo ristrutturare come abbiamo fatto anche in Farmer's Dynasty ciao ciao con il capello di paglia ok graficamente è carino nulla di miracoloso però felice di vederti sono anni sei cresciuto così bene ci sei mancato entrambi sono felice di vederti cara zietta non vedo l'ora di stare con voi grazie abbiamo la nostra vecchia casa che ti diamo ci siamo spostati nella piccola casa oltre alla strada volete vendere tutta la proprietà stiamo cercando un compratore anche per la segheria ma non abbiamo abbastanza forza e abbiamo bisogno di aiuto insomma per risistemare tutto sono felice di aiutarvi grazie sei gentile sono preoccupato per il tuo zio è troppo vecchio per lavorare fuori nella foresta e fare tutti i lavori pesanti posso immaginare la foresta è sempre stata molto vicina al suo cuore ma che ne dici facciamo un piccolo tour della zona? seguimi e allora andiamo a vedere la tenuta degli zii c'è questo effetto un po' di sfocato che mi dà un po' fastidio perché parte ogni tanto quando ce ne voglio sono felice di questo posto ci ho speso tutta la mia vita insomma andiamo a vedere un attimino l'ambientazione mi piace più di quella di di farmer's dynasty che poi alla fine il farming era un'attività secondaria si cara è appena caro appena arrivato cara appena arrivato oh no hai bisogno di aiuto? glielo chiedo vediamo che cosa vuole al zia con l'iphone tu zio ha problemi nella foresta potresti per favore andare a vedere che cosa sta andando male? cosa è successo? certo dove posso trovarlo? è chiaramente dietro la segheria sono sicuro che tu lo troverai prendi il nostro vecchio pick up insomma vabbè stesso problema che aveva farmer's dynasty cioè i sottotitoli troppo veloci è davvero molto molto interessante diamo un'occhettina in giro per quanto sia abbastanza non so mi sembra un po' zoomata la visuale ma poi si può zoomare ancora di più si può attivare aprire le cose figo tutto questo figo fighissimo ma probabilmente ci arriveremo dopo con la storia qua abbiamo possibilità anche di aprire la finestra qua abbiamo altre cose insomma andiamo a prendere il pick up il vecchio pick up degli zii che in teoria poi questa sarà la zona da sistemare salve ah mi investe così ovviamente ricordiamo è un early hack anche all'inizio il gioco era molto molto scomodo all'inizio scomodo bruttino forse un po' legnoso però poi è senz'altro migliorato se parliamo di di farmer's dynasty quindi sono ben fiducioso andiamo un'occhettina alla mappa è davvero molto molto interessante come mappa perché è tutta di di montagna con un sacco di cose potremmo fare attività secondarie come lo potremmo fare anche in farmer's dynasty quindi la possibilità di pescare di coltivare un articello di fare l'apicoltore insomma quindi di cose da fare ce ne saranno oltre che sistemare e ovviamente tagliare i tronchi perché alla fine siamo dei boscaioli qua stiamo andando verso il zio che il zio è lì 120 metri insomma ovviamente valutate questo gioco insieme a me insomma lo stiamo lo stiamo esplorando la prima volta ovviamente è difficile giocarlo a fondo ora che è in early access ora che magari un aggiornamento può mandare un po' quel paese i salvataggi vabbè siamo arrivati qua che dobbiamo fare esci dall'auto e incontra tuo zio che problema ha mio zio mio zio l'ha dipinto come un rudere ma in realtà forse sì felice di vederti caro zio la zia garis mi ha detto che eri qui insomma vanno troppo veloci sono rimasto bloccato nel fango cosa vuoi che faccia vai sul trattore e prova a attaccare il carretto ma potevi farlo tu bello questo cos'è ah per prendere i tronchi figo poi c'è un simpatica una simpatica gif su steam dove uno prende i tronchi e butta nel lago nel fiume niente andiamo indietro attacchiamo covis control change camera ok sì il modello è un po' plasticoso sembrano dei modellini ma ok agganciato vediamo adesso il terreno come cambia interessante il gioco attualmente ha delle recensioni mediocre perché tanti hanno avuto problemi io ho sparato la grafica al massimo poi ok l'abbiamo tirato fuori dal fango dall'acqua scusate ben fatto hai abilità eh lo sai beh è solo l'inizio vediamo come sì vabbè mi fa vedere qualcos'altro insomma io lo seguo cioè lo molliamo lì proprio zio dove importi sono anni che non venivo qui la motosega il momento della verità ora prendi la motosega va bene prendiamo la motosega posso scusa no non si può scusate ci stava allora tasto sinistro del mouse taglia l'albero ah devo tenerla qui interessante figo e secondo me è comunque da tenere d'occhio perché magari se siete proprio appassionati sfegatati di questi tipi di giochi ok se no aspettare potrebbe essere una buona scelta perché potrebbe migliorare tanto come lo è stato anche Farmer's Dynasty hai bisogno di tagliare tutti i rami allora taglia i rami e taglia il tronco in pezzi va bene dai ci sono i rumori di fondo anche di Mice & Mac la gente che taglia gli alberi faceva questo in realtà giocava a Lumberjack Simulator a Lumberjack scusate a Lumberjack Dynasty Lumberjack Simulator è un altro titolo che dovrei portare più avanti forse ma non ne sono pienamente convinto perché anche quello è un titolo in early access da tenere parecchio d'occhio perché lo sta sviluppando al momento non è ancora così prestante diciamo tagliamo ok un po' macchinoso però l'abbiamo tagliato dai ora dobbiamo tagliarlo in pezzi no dobbiamo andare là ah ok quindi zio ma ah proprio così ah posso muoverlo così vediamo un po' se ce la facciamo allora adesso si l'avevamo appena disincastrato da lì ma lo ributtiamo dentro allora vediamo adesso cosa riusciamo a fare guardate il terreno che cambia un pochino sotto il nostro peso perché sono abbastanza scarsino io a fare queste cose danni ai mezzi non sembrano essercene da quello che ho visto vedremo adesso vediamo se riusciamo a prendere beh comunque la traccia rimane sul terreno quindi molto interessante ok vabbè vediamo se riusciamo a fare allora alza gira a molto intuitivo ok ok no ho scoperto che devo tagliare i tronchi come avevo già detto in più parti e me lo dovrebbe segnare lui quando esce questo menu qua ok quindi adesso io ho tagliato i tronchi in tre parti e devo caricarli sul trattore quindi usando la la cosa qua allora ok entra pick up log ok lo raccolgo anche molto intuitivo come come sistema drop log perfetto abbiamo raccolto il primo vediamo se si mi aiuta parecchio il gioco insomma andando a a prendere adesso vediamo di andare vicino a questo altro vediamo se il gioco mi perdona un pochino oh mi sono distratto vediamo se mi perdona un attimino la posizione in cui mi trovo direi di sì perché me lo lascia prendere in modo tranquillo ok prendo il log e ora porta il legno lì ok mi è tagliato l'albero abbiamo iniziato una cosa base insomma abbiamo anche qui se vedete i punti col tasto tab appunto punti social con cui possiamo poi probabilmente acquistare nuova gente ok continuiamo a proseguire lasciamo anche le impronte di sporco sul cemento carina come cosa ora dove dobbiamo andare ah dobbiamo buttarli qua ma allora no è giusto ah no allora non era una ok ok allora niente prendiamoli e buttiamoli in esperienza mia ho detto una cazzata io drop log ma non vale lì non me lo tiene valido quindi devo proprio buttarlo nel lago quindi facciamo una una retro molto intelligente tipo qui e li buttiamo giù no ahahah non me lo lascia fare niente dai riproviamo riproviamo adesso rimetto mi rimetto bene dritto e li buttiamo giù mi caccia la miseria mi sono impantanato non bastava snow runner ci si è messo anche questo gioco dai allora cerchiamo di regolare bene ok forse così ok forse ce la facciamo ok back drop log ok uno due prendi anche il terzo ok e butta il terzo sarà da capire perché faccio questa cosa buttarli nell'acqua e tra l'altro ok torna alla farma e parla alla zietta va bene andiamo ben fatto ok torniamo indietro torniamo indietro con tutta sta roba grazie ancora per avermi aiutato ok poi qua c'è tutta la struttura della segheria si vede qua proprio tutto il trattamento del legno quindi è carina come cosa cioè comunque molto più varie rispetto all'altra mi scusi eh mentre io mi metto ovviamente questo gioco si presta bene magari per una live dove lo proviamo insieme insomma o andiamo a vedere nuove features sì eh devo andare di là però eh mi scusi abbiamo lasciato là il pick up però vabbè ho fatto prendere lo zio ma ha mollato proprio così in mezzo alla strada cioè ma scusate ma no non me lo lascia più prendere perché c'è l'esigenza della storia di andare avanti insomma quindi andiamo avanti gli zii eccoli qui bello perché comunque c'è molto più storia dell'inizio ciao ragazzi è stata una esperienza rinfrescante vorrei dare un'occhiata sì andiamo a vedere segui la zia ah vediamo un po' vediamo un po' il cibo nutriente insomma sano è importante per noi Charlie ha piantato non so cosa perché non ho letto comunque abbiamo preso mille punti social quindi abbiamo piantato questo cos'è ah ho sempre sognato di metterci un alveare qua ma non l'ho mai fatto potrebbe essere ottimo per le piante e i fiori ok sono riuscito a leggerlo in tempo ah questa è la serra puoi acquistare semi nello store potresti crescere far crescere le verdure velocemente ok interessante qualche cos'è ora il workshop la bottega insomma dove si lavora il regno di tuo zio puoi rifornire di carburante lavare ogni veicolo qui ok mi dispiace molto vedere questo edificio in questo stato potremmo far qualcosa potremmo ripararlo e dovrebbero esserci degli attrezzi all'interno ok allora andiamo a vedere all'interno ci stavamo già andando prima e adesso ci andiamo invece per esigenze di missione ah un trapano no una pialla forse una spara a chiodi ok 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 questo è il classico engineer side ok la vista dell'ingegnere possiamo andare a riparare anche questo ma abbiamo già riparato questo no lui intanto è fuori felice Charles ma abbiamo altri mezzi altri oggetti vediamo un po' anche qua possiamo riparare ok però continuo a darmi quella zona lì non so perché che vedete che poi con questo possiamo andare a passare da da un all'altra a vedere tutte le le professioni che possiamo intraprendere allora vista dell'ingegnere si mi dice ok qui ok anche qui ho già riparata si anche qui c'è un asse mancante che sistemiamo immediatamente non me lo segna più mi segna delle cose lì sotto ma non credo siano riparabili adesso anche qui cioè la facciamo semplice proprio no però è comunque bello rilassante devo dire giocato così senza parlare insomma il fatto che sia guidato da una storia è carina come cosa attenzione anche qua mi ricordo che poi nell'altro c'erano i ponteggi ah ma è lì è lì che mi dice di riparare ok scusi eh beh ma parli senza di me queste riparazioni andranno bene per ora possiamo produrre ah assi nella segheria e puoi ripitturare ok ah produciamo noi le assi cioè tagliamo il legno poi diciamo le assi e ripariamo tutto ricordo i vecchi giorni questo fienile era pieno di animali se tu potessi riparare nelle mure il tetto insomma potremmo rimetterlo in funzione interessante poi erano piccati su su lì pick up e scaffold ah ok ok classico c'era anche in in farmer's dynasty ok abbiamo messo questo ok abbiamo messo questo e mo possiamo salire no però lo mettiamo qua ok e anche di qua possiamo metterlo no no non capisco dove poterlo mettere magari dobbiamo salire da qui e ne possiamo mettere un altro di scaffold vista dell'ingegnere ah la la possiamo mettere ok che si può salire anche da qui la possiamo mettere anche qua ok ah ma proprio ok andiamo qua sopra e vediamo no no non mi interessa questo ah abbiamo delle tregole rotte ah ok ok bene e lo facciamo dopo non è un problema ha bisogno di la casa ha bisogno di rinnovare di essere rinnovata posso non possiamo offrierti niente di meglio avrai una stanza una cucina e un bagno poi cucinati quello che vuoi ok interessante spero già ma e mo interessante quindi risistemeremo questo fienile questa è la casa allora qua c'è ok il capanno adesso vediamo cosa dice prova ad andare dai vicini potrebbero aver bisogno di potrebbero aiutarti è pieno di lavoro qui nella nostra segheria potremmo farne del profitto quei lavori che si fanno mettendo in piedi questa cosa ok va bene dice in pratica vai a dormire e riprenditi insomma ci vediamo allora scusate allora questo guarda intorno e poi vai a dormire allora quella è la nostra casa ci hanno dato la casa più grande loro probabilmente abitano giù là qui abbiamo il capanno degli attrezzi che abbiamo visto con dentro quello che abbiamo preso poi il resto qua non so onestamente che cosa mi servirà dovremmo riparare tutte le varie cose sistemarlo col tasto destro poi con in mano anche la la cosa qui il repair tool vediamo di cosa c'è bisogno qua abbiamo il fienile che potremmo sistemare potremmo andare a mettere a posto lì in alto di qua c'è la serra di qua c'è qualcos'altro il fienile qua per gli animali forse sì la base resta pressoché la stessa del vecchio gioco vediamo un po' se la casa è un po' diversa però è interessante perché l'ambientazione mi piace molto è molto più tranquilla dell'altro senza tutti questi campi qua è tutto pieno di foreste andiamo a vedere la casa la casa ha dei mobili assolutamente osceni però voglio dare fiducia al gioco quella cucina è una cucina un po' così qua tutto distrutto anche qua c'è andato proprio una casa ci hanno detto non ti possiamo dare di più la casa puoi sistematela e va bene vabbè e quindi entriamo finiamo di vedere tutte le stanze così ci diamo un'occhiata allora qua c'è un bagno il bagno è spettacolare perché non ci azzecca niente con una casa in questa zona però io ci scherzo sopra però ovviamente sarà un gioco da termine ad occhio perché secondo me è un bel passatempo ah ok questa è una stanza un ufficetto e qua abbiamo la nostra camera e però che spettacolo scusate ma se io volessi ad esempio prendere in mano subito la pialla e sistemare posso dovrei avere delle assi in mano ma un po' di assi li avrò immagino e quelle che poi infatti mi sa che non ne ho più adesso ora che non abbiamo più assi potremmo andare a comprarle o semplicemente produrle rimettendo in piedi la segheria sembra essere interessante sembrano esserci delle ottime premesse no l'assi ne avevo ancora comunque vediamo adesso andando a dormire che cosa succede dormiamo fino alla mattina dopo non dormiremo una settimana come il vecchio gioco ok food 56 sono 100 quindi dovremmo anche mangiare ritorna dalla zietta va bene se mi ricordo da dove si scende graficamente è un po' è grezzo come farmer dynasty però sembra interessante allora la zietta dov'è? abbiamo lasciato il pick up se non sbaglio o la beh ma forse ce l'ho riportato il bus per muoverci si possiamo prendere il pullman si la zia abita là in fondo ok perfetto qua si potrà fare il pieno immagino eccolo lì questo qui invece dove è andato vabbè andiamo a vedere beh la zia si tratta mica male è la casa più piccola ma la casa non ha non ha niente che non va ciao caro come stai zietta? va bene caro sei ma mi sembra in mezzo morto di fame qua posso aiutarti con qualcosa? non ho sentito Lily per un po' di tempo potresti andare a vedere se è ok è un erbalista erborista ho bisogno di chiederti qualcosa certo dolcezza insomma hai menzionato animali hai qualche trucco di cucina per me? molte delle cose che tu produci sono mangiabili mele vegetali insomma verdure insomma puoi cucinarle per farle più piatti per i ribati insomma per te o per venderli sì qua sicuramente Mirko sarà molto più di gameplay channel sarà molto più fattato di main giochi del genere perché si è giocato praticamente il titolo 1 il titolo di Farmer's Dynasty puoi darmi qualche consiglio? vai parla alle persone puoi chiedere anche a Charles tutti conoscono tutti lui conosce tutti scusate e sarà a dire ok ti darà va bene arrivederci 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 dove è Charles? Charles sì il nostro pick up è rimasto nella foresta ma va sarebbe una vergogna se qualcuno lo rubassi rubasse va bene e lo so che l'abbiamo lasciato là l'abbiamo lasciato lì e quindi dobbiamo andare a prenderlo lo chiama Christine vabbè posso vedere la vostra casa zii? zii? l'abbiamo lasciato entrare eh voglio vedere come siete messi bene voi entro dalla rete tutto chiuso non mi fa vedere niente vabbè niente in casa degli zii non si entra mi sembra un classico sì allora andiamo andiamo 400 metri e andiamo a prenderlo allora io vabbè qua hanno un capanno degli attrezzi allora io vi dico non è male se vi piacciono i giochi simulativi vi dico a me piacciono i giochi non dico simulativi quei simulatori diciamo di vita lo trovo oh me mamma mia un cinghiale così libero così vicino a me sicuramente va sistemato va sistemato abbastanza pesantemente perché ovviamente è un gioco che è appena uscito e la versione adesso non so se ho visto la 0.4 quindi insomma doveva crescere abbastanza però se siete appassionati come me di giochi tipo Gold Rush insomma con la serie lì quelli in cui si comunque si scava si fa diciamo si interpreta un certo ruolo una certa professione questo senz'altro può essere un buon gioco da giocare per voi senza dubbio vedete qua c'è tutta la segheria che poi dovremmo sistemare cioè mi intriga questo che mi pare non c'era una cosa simile in Farmer's Dynasty quindi il fatto comunque di essere in un ambiente un po' meno aperto un po' più boschivo con tutte queste macchinari magari sistemare da buttare qua adesso non so non me ne intendo del perché si butti in acqua del il legname poi sicuramente ci sarà una spiegazione se qualcuno di voi poi lo sa mi chiarisca i dubbi qua sotto nei commenti però stiamo andando a recuperare questo adesso così recuperato questo lo riportiamo a casa e presumo ci dia o soldi o punti social i punti social se il discorso è uguale per come era su Farmer's Dynasty qua su Lamberjack Dynasty potremo anche andare a assumere dei lavoratori che lavoreranno per noi spendendo appunto quella valuta lì ora vediamo un po' la visuale interna interessante c'è anche il carburante voglio provare ad andare a vedere se riesco a fargli il carburante qua a casa vediamo se funziona poi riporterò il mezzo lo zio vediamo se gli possiamo fare il carburante da qui home fuel tank refuel abbiamo fatto refuel vediamo lava il veicolo magari me lo fa fare già lui dopo però però mi sa che è già messo male così te io non me lo lascio fare perché siamo tutorial parla a tuo zio bene andiamo a vedere molto bene zio ciao ho portato l'auto come mi hai chiesto fantastico grazie penso che potresti usare il camion di più quanto io faccio ora dovresti andare incontrare Oliver l'ultima volta gli ho parlato ho menzionato che ha bisogno di qualcosa nel suo finile ovviamente prenderemo a sbloccare tutti i tool è figo anche questa cosa che non ci dà tutto subito ma ce lo sblocchiamo con la storia e sembra essere comunque anche da quanto ho letto una delle features principali di questo gioco il fatto di avere una storia o delle missioni un gioco basato a missioni quindi poi potremo decidere poi come evolvere quindi è bello anche questo essere accompagnati ma poi lasciati liberi un attimo per andare a fare le varie cose ho visto un uomo strano al fiume si nascondeva nel non so non ho letto in tempo ma ora abbiamo diverse quest dobbiamo andare a prima di tutto a riparare la nostra fattoria quindi zio io ti lascio qua la macchina vedete che ha scavato il terreno non a livello di snow runner però allora se merita allora sicuramente il gioco non è brutto deve essere sviluppato e lo sappiamo arriverà anche l'italiano ci vorrà del tempo il gioco è è stato portato avanti anche il capitolo precedente con calma fino a diventare dall'early access un gioco completo quindi diciamo che gli sviluppatori ci sono per il momento poi vedremo abbiamo ricevuto old pick up ok e dei dei punti social dovremmo averne il nostro 1100 si infatti 1100 lungo la mappa possiamo andare a vedere ah ok small secret parla allo straniero al fiume quello che diceva prima qua dice ripara tutta la farm qua abbiamo oliver e il suo fienile qua abbiamo la torre non costruita forse dovremmo fare una visita ci da dei punti social e miseria a fare ce ne sono anche qua c'è per buttare i tronchi c'è sembra essere un'area davvero molto grande e anche intrigante quindi insomma il gioco andrà sicuramente tenuto d'occhio poi magari dipende vedremo anche da quanti commenti mi mandate vedremo se fare una live insomma o altri episodi per intanto vi invito a farmi sapere che cosa ne pensate di questo titolo e noi ci sentiamo al prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao ciao